Fornì, guarda di polizia in San Nicolà, a cui è sospechoso Alexis Martina del Vodas, qui andrà iniziando il seguente reportaggio. Entretanto, noi fornò con il mezzo e sospechoso Alexis Martina del Vodas, la fine arromba di februari, 1927, di bala, la professora Norto, 599, a Caba di Uorda, detenì la poste Chiquito, la ripatruia San Nicolà. Televidente, la nostra parada è in Caserno Strat, e sa che è per me che è sospechoso Alexis Martina del Vodas, che nasce in Aruba, 18 di februari, 1927, vive in la Sabana Basora Norto, 89, e per me è che è stata passata in un momento, che è stata riuscita a entrare per la guardia di polizia, e sa che è stata riuscita a entrare con l'auto di trasporto, che è stato riuscita a entrare per la guardia di santa cruz. Con questo è stato riuscita a entrare per la guardia di santa cruz. con un'emozcita a entrare con un altro caso, che è stato riuscita a entrare con il sogno, che è stato riuscita a entrare con il sogno. E questo è stato riuscita a entrare con l'auto di trasporta. E questo è stato riuscita a entrare per la guardia di santa cruz. e il suo manco nel gesto di stampa che lo accorrà. E la sala è fuori la porta qui, la porta qui è a Tabatahabri, per sopra un rato per me, un giorno vengono di sia, per aver imparato il transporte a Drento, a Fasali, e la porta qui, come questa sera, automaticamente, è a Tabatahabri. E la porta qui va in direzione di biblioteca e apparentemente la sconde di un giorno in cui è Lugana, secondo il mio informe, però dopo la busscia di non attopare con lui. La polizia sta qui nel suo caso, non attopare con lui il notificato, ma io nasi, la Sabana Bonsora Nord, 89, con questa porta a busscia. Mastro in pan, di ora di merdia, è la porta detenita, di come la porta detenita? Nel momento in cui si è sospetto di bagge, di un Nissan March RHD, con la maniera gel crem, per sospetto di arma, non appare. Nel momento in cui non appare, avrai controlla una foto del cosco che ti è in baggele, di un tasso di un proiettile, di una droga, di una guarda, di notificare che non è un unit, e che non è un unit che vien, ha cominciato con un'investigazione, arriva il auto, e durante, passando il che cacciò, etc., abbiamo scoperto in baggele, un'arma potente, un Revolver 38 Special, a guarda, ha avuto il sospeccato qui. Suficiente motivo, per mostrare il suo derecho, e la chieda, detenire un viajano, e mostrare a arriva, quella bella che era il motivo, di lo che è avuto il ha avuto, e l'auto ha avuto confiscato. La persona qui non è desconocito, è un numero che si chiama, si chiama 111-411-411-411-411-411, e si chiama il numero di tepline di poliz, e si chiama un'informazione, per se non propone, ma arriva il sospeccato qui. oppure, una peticione speciale. Entrega buoni, evitare confrontazione con la polizia per sobra bocchengs di Ghana. Tampoco. Mi hobo entrega buoni, evitare problemi per buoni. Un camerografo, leo panoflap. For di guardia polizia, Nassan Nicolás, Nalospitandrade, per Telenoticia. Nassan Nicolás, Nassan Nicolás. Nassan Nicolás, Nassan Nicolás, Nassan Nicolás. Nassan Nicolás. e ora si tratta di una altra fase, come dice che con la nostra fondazione ha una altra struttura con un rato di tosizia e il direccorio, che fa che si tratta di un buon per noi, in modo da seguire le tratture. Naturalmente c'è una challenge, come si tratta di un rato 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 di uno, dengan un ragazista di un rato diktagg groups e il rato di entorno il rato di un rato di un rato di un suazione thisi in questi sociaux e lontano chiamare Steven Zurghi e Alcune, con un progetto che si retta di un rato di satlementar settings. Pelare di un rig wealthy e alz childish di un rato di un riso, esissima delbelo di un rato 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 di un ruolo AI ça un' permesso, se questo è possibilità». Io ho com'è per me in Rene Van Meere ha con me introduzione del dualistiche bestuursmodel. Ero una risfera di un'ubile bara di bestiore. Nu streve una risfera di più una risfera di alleizomeno di ruote di tutti i luoghi della proiettri. Di buone partiti che hanno specifiche attrazione della proiettoria e di uito. Se una linka con un muroupa di nuvole rinfo, è un pittere una maniera per far moreviare recitare. D'accordo di sanità di Stato Keepo Radia è necessaria di dati nel di un patriote per le loro serv hoffe book. c'è anche se Il codice è meno o meno abbastanza, e le queste installazioni, letto, che le punti che in il codice sta permesso, anche da te verifici, sono implementati in instituzioni e altre regolamenti di installazioni. Questo è molto cruciale, almeno, che provano a provare a provare. Questo giorno ha fatto qualcosa che il Comitato dell'Olimpico Urbano ha supportato totalmente. Ci siamo cercati di non scegliere, per quanto riguarda il Comitato dell'Olimpico, ma anche per quanto riguarda il Comitato dell'Olimpico Internationale, il concepto di buona governanza, che è una cosa che abbiamo implementato nella nostra organizazione. E ci siamo cercati nel 2005 con il tema, e ci siamo cercati di lavorare con le federazioni, ci siamo cercati non solo con le COA, ma anche con le federazioni, ma anche con le mie braccia e il concepto, perché ci siamo cercati di lavorare. Il giorno non si tratta di lavorare con i fondi pubblici, fondi di subsidio, ma anche fondi privati. E ci siamo cercati di lavorare con i fondi pubblici, e ci siamo cercati di lavorare con i fondi pubblici. E ci siamo cercati di lavorare con i fondi pubblici, e ci siamo cercati di lavorare con i fondi pubblici. Ci siamo cercati di lavorare con i fondi pubblici, e ci siamo cercati di lavorare con i fondi pubblici. Perciò ci siamo cercati di lavorare. E ci siamo cercati di lavorare con i fondi pubblici. Ci siamo cercati di lavorare con il pubblico con i fondi pubblici. per organizzare il Kingdom Youth Parliaments. E il nostro papà è che il Parlamento Rubinil ci sta a encargare una parte della organizazione qui e ci sta a ascoltare i plani e che ci stanno a fare un luogo e che ci hanno un approfitto per i loro bambini di Aruba che vogliono partecipare tra l'età 16 e 23. Cosa sento in un mese, ho avuto un po' di partecipare di qualcosa che ci sta a dimostrare i nostri talenti. È parte del medioambiente, che voglio fare un foco grande mirando con la Princesa Beatrix che ci sta a cercare di questo tema. Ci sono molto entusiasmo per chiamare la Princesa Beatrix Bambini e per assicurare che abbiamo un'organizzazione buon plan, buon delineato che ci sta a mettere i loro bambini e 20 bambini che ci sta a representare Aruba e ci sta a rendere i loro bambini che ci sta a rendere i loro bambini che ci sta a rendere i loro bambini. Grazie. 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 è una cosa più importante. Il nostro livello è quello che si segue in futuro, per generare informazioni. Il nostro livello è una situazione che è critica. Entre noi abbiamo anche un'idea di come migliorare, ma il nostro plan per migliorare, e per avere un livello che vuole migliorare, ci sono ancora più. Il nostro livello è un seminario con sei moduli. Il nostro comizio è in ottobre, ci sono 3 moduli. Il nostro livello è di 4 e 6. Il nostro livello è diverso, come si è un livello, il nostro livello. Il nostro livello è un plan per migliorare. Il nostro livello è un livello, e il nostro livello, ci sono stati informazioni. Ci sono stati informazioni, ci sono stati informazioni, ci sono stati informazioni e ci sono stati informazioni. che in conto ci sono stati informazioni. Deve dire una cosa, una cosa prima cosa. Credere, credere. Credere che possiamo riuscire qualcosa. Se credere, rispondere, proviamoci. Cerchiamoci con l'altro. Credere, se credere, se non hai lo che, pensare, se lo faranno, lo faranno, lo faranno. Una volta che lo faranno, lo faranno, lo faranno, Ma se si è arrivato, dovete arrivare la top, ma magari dovete arrivare la parte. È un'ercivimento, ogni'ercivimento counts. Quindi quando hai l'ercivimento, c'è un altro punto. Che hai avuto, doveva è, qualunque hai avuto, hai avuto un'ercivimento. Vai avuto un'ercivimento, vai fare un'ercivimento, vai posto, è tutto tutto. Sì, come and let everybody know and be happy about it. Once you have that, you accept yourself, that you have reached that point, you're going to walk through. Because now that you know you can reach all the way to the top, you may reach for a higher one. If you reach halfway, you can still try to come all the way to the top. So if you believe again, you'll do the effort. Why do we do that? Because that's the way to success. We keep on trying because we believe in each other. Let me tell you one thing. Quere migupopôr. Un'gruppo di traradona di KIA arraia nam bevordereng. Telenoticia acubri un'parti di un momento special aqui. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. che... 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 che...